Fiamme in un lido nella notte a Torre Bali, Marina di Salve, l'inferno di fuoco si è sprigionato intorno alle 4 e questa particolare ora lascia già sospettare la matrice dolosa dell'incendio. Colpito il salè di Via Attendolo, lounge bar con annessa pizzeria, di proprietà di un 49enne di Tricase, gestore peraltro di una navetta che trasporta vacanzieri. Le fiamme si sono fatte strada poiché la struttura è realizzata in legno e coinventato. Nell'arco di pochi minuti il rogo ha interessato tutti gli ambienti, compreso il locale adibito a bar e quello dove trovava spazio la cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ugento e Tricase, con due supporti con autobotte e mezzi per la protezione delle vie respiratorie provenienti dalla sede centrale di Lecce. L'aria, a causa della struttura in fiamme, era del tutto irrespirabile, è quindi impossibile farsi largo tra le fiamme il fumo senza dispositivi di protezione. E l'odore acre di bruciato si percepisce ancora. Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, sono arrivati i carabinieri della stazione di Salve. L'interno del locale è andato completamente distrutto. Soltanto 24 ore prima un'altra attività commerciale è stata colpita da un misterioso incendio, il ristorante L'Orizzonte nel centro storico di Gallipoli. Da diverse settimane il litorale ionico è stato interessato da numerosi altri episodi incendiari che destano una certa preoccupazione.